Questo è l'equipaggiamento di sopravvivenza più estremo che abbia mai visto. Quando uno tsunami colpisce, le persone si devono solo nascondere all'interno della sfera per sfuggire al disastro, anche se cade da un dirupo o una cascata alta diversi metri. La sfera può atterrare senza problemi, all'interno è dotato di vari elementi essenziali per la vita, e di un sistema di rifornimento di ossigeno in grado di sostenere le persone per circa 7 giorni, ha anche un localizzatore GPS. Quindi le squadre di soccorso possono trovare rapidamente i sopravvissuti una volta che lo tsunami si sarà placato.